e ciao a tutti chi per energia adesso andrò ad aprire il regalo del giorno 6 su adopt me dovrebbe eccolo infatti qua sopra c'è già gente che sta aspettando davanti 7 6 5 4 3 2 1 ok andiamo ad aprire 3000 gingerbreads ok ok raga abbiamo ricevuto 3000 gingerbreads non è male non è male in realtà e questo è tutto ci vediamo in un prossimo video grazie